Dieci rose Mezzo piedi dieci rose Cioè questi fanno vedere i piedi per soldi Troppo bella Troppo bella quella cucina Madonna a quest'ora ci sono tutti zozzi Questo per le torte No adesso va a vedere ci sono io Fate entrare Jody che altrimenti parte la ship con Gio Lame Ma chi è? Non lo facciamo entrare? Cazzo vuol dire Ma chi è Gio Lone? Gio Lone ti piace il mio bellissimo pigiama? E vuoi entrare? Ah mica Ti ha dato proprio la chiave così per il suo corpo Eh però no eh Dai 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 Oh cazzo Ciao Jody Allora innanzitutto se mi conoscete fanculo Ehi Piacere Se non mi conoscete fanculo No no sto scherzando No è perché no È uno slogan È uno slogan di Twitch L'abbiamo fatta entrare Eccoci Sì 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 Ci sono ci sono Ok Gio Lone Adesso devi cominciare a essere la persona più antipatica del mondo Cominci a flexare tutto quello che fai Devi essere proprio Devono odiarti Ma guarda in questo momento sono in diretta su Twitch Comincia a flexare ogni cosa Quindi Guardate il mio studio che bomba Sto studio qua vale almeno 500.000 euro Ok prendete la vostra casa di merda Moltiplicatela Ma voi fumate ganja Comunque Quando è che passate da Milano Entrare Nel tuo studio Questo Questo è un Questo è un divano letto C'è un po' di delay No ma c'è un botto di delay No no Io e te c'entriamo C'entriamo Ma Ma no perché noi Desideriamo da sempre Regista una canzone Con l'autotune Ah Ce l'ho Ce l'ho l'autotune Cioè se potessi farvelo sentire Ve lo farei sentire adesso Cioè se potessi farvelo sentire E 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 se potessi farvelo sentire